Le elezioni in Unione Sovietica si delinea alla vittoria dei riformatori, affermazione personale di Boris Yeltsin. Ancora polemica nel governo tedesco per i confini con la Polonia, il leader di Berlino Est, Modrov, a Mosca per parlare del processo di riunificazione delle due germani. Il presidente del Consiglio Andreotti incontra oggi alla Casa Bianca il presidente George Bush, sarà il primo di una serie di colloqui con i responsabili della politica americana. Firenze si interroga sul nuovo episodio di violenza contro un immigrato di colore aggredito e picchiato in Piazza della Signoria, interrogati dal magistrato i dieci giovani accusati di aver partecipato ai pestaggi dei giorni scorsi.